Potrebbe trovare presto una soluzione il problema dell'erosione della costa a Pineto nella zona nord nel tratto di Villa Ardente, quello zona rossa maggiormente colpito dalla problematica. Giovedì sera a Pineto si è svolto un consiglio comunale largamente partecipato anche da portatori di interesse e operatori turistici. Nelle mozioni relative all'erosione i gruppi di minoranza hanno chiesto un intervento basato sulla sistemazione di scogliere nel tratto di mare pinetese, soluzione che necessita di approfondimenti circa le ripercussioni che potrà avere a livello di impatto. Arriveranno finalmente le scogliere, sì il percorso è appena iniziato, siamo orgogliosi come gruppo di opposizione di aver costretto diciamo sostanzialmente l'amministrazione comunale a prendere finalmente una decisione al riguardo. Erano anni che a Pineto si discuteva di difesa della costa non scordiamoci che in quella zona di Villa Ardente negli ultimi anni abbiamo perso all'incirca 40-45 metri di costa e abbiamo avuto un abbassamento della linea di costa di circa due metri e mezzo. Intervento che presumibilmente quali tempi avrà? Noi ci auguriamo rapidissimi almeno per questo primo intervento. È chiaro che parliamo di un progetto parziale in questo momento che è volto alla difesa di un solo tratto litorale ma un tratto dove il rischio è elevatissimo. La spiaggia di Pineto è l'unica a non avere le scogliere e finora si è proceduto a seguito di pianificazioni regionali del passato con il ripascimento, azione che però almeno nella zona nord del lungomare ha avuto effetti limitati i soli mesi estivi. Dunque si cerca una soluzione che possa mitigare definitivamente la problematica restituendo serenità sia alla cittadinanza che agli operatori turistici. È evidente che il problema va visto ormai nella sua interezza perché interventi soprattutto purtroppo alcuni interventi del passato tra l'altro tipologia esattamente opposta rispetto a quello che abbiamo stabilito l'altra sera a Pineto forse sono stati un rimedio peggiore del male e toglierai anche il forse. Poi probabilmente l'intervento complessivo necessiterà anche un coinvolgimento del governo e magari anche l'attivazione di canali di finanziamenti europei. Io ho detto due cose, le ho ribadite e colgo anche questa occasione per riprecisarle ulteriormente. La prima, il problema dell'erosione non è un problema abruzzese, è un problema che ha già interessato altri tratti della costa italiana ed è stato risolto. Il secondo circa l'entità dell'intervento economico sarà anche un intervento importante alla fine, ma io ho detto e voglio farlo presente anche ai telespettatori di TV6, quanto vale una stagione turistica sulla nostra costa da Martinsicuro a Silvi. Io penso che il valore di una sola stagione turistica è enormemente superiore rispetto all'entità dell'intervento di cui stiamo parlando. Se pensiamo che salvare le nostre coste significa salvare attività economiche per decenni che da decenni danno ricchezza e occasioni di lavoro al nostro territorio e per altri decenni dovranno garantirlo, credo che allora stiamo parlando di un problema che problema non è.